I delfini possono rimanere in acqua, sott'acqua per 10 minuti. Dopo devono riemergere per respirare, altrimenti soffocano. Non sono infatti dotati di branchi, non sono pesci, sono mammiferi. I delfini sono animali molto sociali ed empatici. Vivono in branco e i branchi possono essere composti anche di mille esemplari. E' uno spettacolo vedere questi branchi muoversi nel mare. I delfini forse potrebbero essere in grado di vedere i bambini nell'utero, come se facessero un'ecografia. Infatti usano l'ecolocazione, che è molto simile agli ultrasuoni. Sono stati spesso osservati delfini avvicinarsi a donne incinte. Un'altra interessante curiosità riguarda il sonno. I delfini possono dormire con metà del cervello e possono stare svegli per più di 15 giorni di fila. Siamo abituati a vedere delfini azzurri, blu, grigi. Esiste però in realtà anche il delfino rosa. Il delfino rosa è un raro esemplare che vive dentro a un fiume boliviano. E' chiamato anche botto, inia o bufeo. E vive in acqua dolce. E' particolare evidente il colore rosa nei maschi. Purtroppo anche questa specie è a rischio di istinzione. Però è stata avviata una collaborazione tra i ricercatori e i pescatori boliviani per cercare di evitare questa istinzione.